Due centri Amazon abruzzesi, San Salvo e San Giovanni Tiatino, che ad oggi contano più di 500 persone, tra cui l'80% delle assunzioni riguardano gli abruzzesi che oggi lavorano nella logistica e vendita internazionale. Come azienda Amazon è vicina alle famiglie del territorio con donazioni alle associazioni, come l'Agbe, associazione genitori e bambini emopatici, con oltre 400 mila euro. Qual è il riscontro che Amazon ha sul territorio abruzzese in termini di assunzioni? Amazon è presente sul territorio abruzzese su due siti. Questo è il deposito di smestamento di San Giovanni Tiatino e il centro di distribuzione di San Salvo, aperto lo scorso anno. In questo sito sono stati creati 60 posti di lavoro a tempo indeterminato, a quali si aggiungono circa 100 posti di lavoro legati ai corrieri che effettuano il servizio di consegna. Per quanto riguarda invece il centro di distribuzione di San Salvo, lì parliamo invece di 500 posti di lavoro, che raggiungeranno poi i mille nell'arco di tre anni dal lancio che è avvenuto lo scorso anno. Sì, veramente è stato un qualcosa che abbiamo accolto molto volentieri, perché Amazon ha il suo marchio, la sua grande caratteristica commerciale e nello stesso tempo porta dei vantaggi al territorio. Noi abbiamo trovato subito una siderigia, stiamo cercando di dare il massimo, come loro stanno altrettanto facendo. Amazon non ha bisogno di presentazioni e come San Giovanni Tiatino, c'è una zona che attira, attrae, oltre ad Amazon tutto ciò che si vede intorno, vuol dire che è un paese che è pronto a riceverlo e pronto a dare. Quindi benvenga Amazon, come tante altre aziende, anche in futuro. Ma devo dire che Amazon in sé ha portato sviluppo, sta dando veramente posti di lavoro, questo è molto importante. Speriamo di unire ancora le nostre forze, le nostre energie per portare ancora di più. Parliamo anche di viabilità, diciamo, ad un'azienda che si sta adeguando a quelle che sono le esigenze. Quindi da oggi sono soddisfatto di quello che è arrivato, è sempre un bene in più di quello che avevamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.